Venezia Cremonese, video dedicato alla partita. Non torno sulla questione dell'allenatore, perché ho già dedicato due video alla situazione, a quello che ha detto Armena, quindi non ci torno più, li trovate sul canale. La Cremonese ha perso a Venezia, sono 4 punti in 6 partite, il momento di crisi è evidente, bisogna difendere il quarto posto con i denti e la situazione è davvero difficile. Eppure a Venezia secondo me la Cremonese, pur evidenziando dei limiti che ben conosciamo ormai e che si sono confermati che sono un problema, hanno cercato un po' meglio rispetto alle partite peggiori dell'ultimo periodo. Ha pagato molto anche la forza dell'avversario, Venezia è una bella squadra e ha fatto valere le sue qualità. Questo non toglie che la Cremonese ha dei problemi risolti e sono appunto irrisolti. La partita, nel primo tempo hanno prevalso le difese, ma più ancora che le difese, le linee di pressione. Sì la Cremonese che la Venezia pressavano molto senza palla, un lavoro di pressione uomo su uomo che la Cremonese ha portato avanti anche utilizzando l'arma del fallo tattico con intelligenza. Ogni volta che i giocatori di Venezia sgusciavano via li fermavamo con un fallo non cattivo, ma per intipendirli di far ripartire l'azione. Abbiamo commesso 11 falli in mezz'ora, che sono tantissimi. Però ha funzionato, il Venezia nel primo tempo non è mai stato pericoloso, anche perché è un po' bloccato emotivamente e sentiva la partita. La Cremonese invece ha fatto gol e qui Castagnetti, che secondo me ha giocato una partita migliore di quello che molti pensano, ha dato la palla allo colloculo, una bella palla sulla linea laterale. Colloculo ha crossato bene, Pickle con intelligenza rimesso verso il centro e qui Venezia aveva quattro giocatori in chiusura su Vasquez. E però sono andati tutti un po' molli, nel senso vado sul giocatore ma ci pensi tu, vero? E non ci ha pensato nessuno, soprattutto Tesman poteva fare di meglio. E Vasquez in girata ha confermato le sue qualità tecniche e l'ha messa dentro. Il Venezia però ha cambiato pelle nell'intervallo, ha cambiato pelle sul piano morale, delle energie mentali e qui deve sentire un po' vanoni, io credo che abbia saputo toccare le corde giuste della sua squadra, ma ha cambiato anche modo di giocare. Ha cambiato proprio non tanto questione di modulo, ma di modo di giocare, perché è stato molto più diretto. Visto che col gioco dal basso non ci riusciva, ha cominciato a lanciare lungo col portiere e sui rilanci di Joronen ha costruito due occasioni clamorose, una trasformata in gol. Il gol nasce da questo rinvio, Antov che sbaglia perché invece che spingere la palla verso l'uscita, verso la linea laterale, la rimette verso il centro, dove c'è Pujampalo che si era staccato con intelligenza dal difensore, dà un buon pallone a Gittier e Gittier con grandissima abilità pur avendo due uomini addosso la mette nell'angolino con un bel tiro preciso. Saro non poteva arrivarci, bravo l'attaccante del Venezia. E anche l'altra occasione, ancora un rinvio, in questo caso Gittier che si stacca, i due attaccanti sono bravissimi e hanno fatto la differenza, palla Pujampalo, Saro in uscita lo blocca, Saro che ha fatto un'uscita a stile Carnesecchi anche su piano tecnico, praticamente ha preparato i portieri che lo imposta così ed è stato bravissimo nel fermarlo, però è un'occasione di otta. Vanoli ha anche cambiato i suoi uomini mettendo una formazione più offensiva e la Cremonesi ha partito anche perché su piano fisico questa squadra comunque è in calo, ha meno energie degli avversari in questo momento e per accorgersene, vecchio trucco insegnato da un preparatore atletico, non guardare il giocatore che ha la palla, guarda chi non ha la palla, perché chi ha la palla tra la voglia emotiva di gestirla e anche l'obbligo di farlo trova risorse inaspettate, tu vedi che se una squadra è stanca nei movimenti di proposta della linea di passaggio senza palla e se una squadra è molto ferma non è un segnale di energie. La Cremonesi è un po' stanca lo è. Nel secondo tempo quindi ha arretrato e Venezia attaccava, ha avuto comunque un'occasione importante, una bellissima giocata ancora a Vasquez, che anche Vasquez secondo me in questa partita qualcosa di buono ha fatto. Vasquez sponda per Castagnetti, Castagnetti mette una bella palla per colloquio che fa tutto bene, è una palla di Schaffi di Palo ma in questa azione non riesco a trovargli un difetto, è andata così ma hanno fatto tutto come andava fatto. Poi ci vuole anche un episodio favorevole a volte. Però Venezia ha meritato nel secondo tempo e ha avuto altre occasioni, una su una rimesa laterale in cui la Cremonesi si è fatta trovare impreparata, ancora Pugio a Palo, bravo nel costruire l'azione con il tiro di Biarkasson e poi proprio Biarkasson è stato decisivo. In quell'azione, quell'azione gol, la Cremonesi si è fatta trovare un po' scoperta. Di solito su Busio c'è Pickel, in Venezia aveva già preso una disposizione più offensiva. Pickel è uscito in pressione alta, però in azioni precedenti quando Pickel usciva in pressione alta, Locusville accorciava. In questo caso qualcosa non è scattato, Pickel è uscito, nessuno ha accorciato, Busio si è ritrovato solo e quando Busio si ritrova solo sono dolori. Infatti è dato un pallone splendido, per Biarkasson che ha fatto un taglio altrettanto splendido, ha eluso Bianchetti che cercava di spiegare di chiudere, ha eluso Saro che su noi è uscito anche bene e l'ha messa dentro. Bravi quelli del Venezia. Però come vedete nella Cremonesi qualcosa non ha funzionato, nei meccanismi di scalata. E poi nel finale la Cremonesi ha provato a buttare il cuore oltre l'ostacolo, ha fatto dei cambi per cercare di raddrizzarla e l'occasione migliore l'ha avuta Ciofani con un doppio tentativo, però anche qui Ciofani è entrato al novantesimo. Perde la Venezia, parliamoci chiaro, fa parte del gioco. Venezia è una scuola forte, ha giocato bene, ha dei attaccanti forti. Però la Cremonesi, ancora una volta, ha riproposto le stesse dinamiche di gioco che ormai sono conosciute dagli avversari, ci bloccano, in questo senso siamo anche un po' stanchi, magari il morale è basso e quindi non funzionano. E Stroppa non cambia, non c'è niente da fare, è molto testardo nella sua linea, non vuole cambiare nulla neanche a partita in corso, se non gli ultimissimi minuti. Secondo me questo è un limite, di questo sono convinto. Un bravo allenatore ha più alternative, ma non è cambiato durante la partita. In questo caso Stroppa non lo ha fatto e secondo me è un errore. Dovrebbe provare di più a modificare qualcosa, visto che è una squadra che comunque in questo momento non funziona con la dinamica di gioco abituale, perciò prova qualcosa di diverso. E nel finale appunto qualche occasione l'abbiamo avuta, magari in Minsk e magari nelle situazioni anche di schemi saltati, tipica dopo il novantesimo comunque c'è un po' di confusione in campo, è normale. Il gol però non è arrivato. La Cremonese ha un attacco che ha segnato molto meno di tutte le altre squadre. Il nostro problema è che lottano per la promozione, diciamo. Il nostro problema è quello, la difesa anche se adesso concede qualcosa in più è comunque la migliore del campionato. Il problema rimane l'attacco, ed è proprio in attacco, nelle proposte offensive che Stroppa deve trovare qualcosa di nuovo. A me pare che lui si sia un po' arroccato, forse sente anche la pressione, però io credo che debba avere un po' di coraggio. Adesso c'è la partita colpisa in un orario indecente, al orario di pranzo di maggio, del primo maggio, ma è una partita importantissima contro un avversario che si gioca in play-off, sarà molto difficile. La Cremonese deve difendere a tutti i costi il quarto posto, che vuol dire non solo dei vantaggi, saltare il primo turno play-off, avere dei vantaggi di piazzamento, ma anche poter far riposare la squadra intanto che le altre giocano il primo turno se riesce a arrivare quarto. Questa squadra ha bisogno di riposo. Perciò sarebbe veramente importante difendere questo piazzamento e non sarà per niente facile. Cremonese pisa un'altra partita molto delicata. Quindi occorre una Cremonese che reagisce e che dà una svolta al suo andamento. Prima di chiudere, in questi giorni si è ricordata la figura di Luzzara, e io ricordo sempre Luzzara, uno degli aspetti di Luzzara, c'è una sua intervista che io tiro sempre fuori perché l'ho sempre trovata fantastica, che spiega che di fronte alle sconfitte non bisogna drammatizzare. E questo deve essere l'atteggiamento, secondo me, in questo momento. La Cremonese sta andando male, è giusto criticare, le critiche ci devono essere. Ci può anche mettere in discussione, io ve l'ho detto, io ho già detto quello che penso sulla situazione dell'annatore, però si può legittimamente pensare a quello che si vuole, ma guai a pensare che il campionato sia finito perché i cuti si fanno alla fine e nonostante lo stia ripetendo di male e le cose vanno male, ma lo ripetevo anche quando le cose andavano bene, è presto per dire cosa succederà, perché sarà solo alla fine della stagione che noi sapremo se saremo contenti, ricorderemo bene questa stagione oppure no. È chiaro che la Cremonese ora però deve svoltare, deve fare qualcosa per cambiare un'inerzia che è negativa. E ciò che dico io è, stroppa, dai, cambia qualcosina, perché se no, anche per dare una sfrezzata psicologica alla squadra, inventati qualcosa, sii creativo. E con questo vi dico ciao!